Musica Ultimo giro, ultima corsa Abbiamo intrapreso un'avventura parlando di queste cose Alex che meriterebbe quanti giorni di chiacchierata ininterrottamente Sai cosa sarebbe bello fare? A me piace, io sogno su queste cose Riprendere a fare un po' la radio dei nostri tempi, degli anni 70 E sai, cominciare a trattare di questi argomenti alle 11 di sera Per i lupi solitari Io ho fatto un ciclo di trasmissioni su una radio web Ma tipo notturno così, in cui parlavi per RTL o per altre realtà? No, altre realtà Per RTL sono stato in onda anche tanti anni, di notte C'era un talk show che facevo Ma tutto ciò mi affascina, è bellissimo Però poi ho fatto anche un ciclo di trasmissioni su una radio web Sì E' stato proprio una movida nell'ultraterreno Ho intervistato persone in Italia Spettacolo, spettacolissimo Ho girato proprio itinerato per andare a intervistare queste persone E che persone per esempio? Possiamo farne i nomi? Sono persone che conosciamo, autori di libri? Ma non solo, una per tutti Mi sarebbe piaciuto conoscere Gustavo Roll Che per esempio non l'ho mai conosciuto Ok Ma ho avuto la possibilità di conoscere Giuditta Dembeck Dembeck, anzi che sta a Torino Che è stata una sua collaboratrice stretta Per cui mi ha raccontato delle cose incredibili Che non ho letto neanche sui libri Oppure un esimio professore di un istituto Mi sembra del Policlinico di Torino Qualcosa del genere, eccetera Che era uno dei miei amici di Roll Che ha raccontato un'esperienza Che Roll faceva esperimenti con gli amici a tavola Ha detto le cose bellissime Ho conosciuto tantissima gente Cosa pensi di queste cose? Cioè in che maniera si ricollegano Si riallacciano al discorso diciamo così Spirituale che stavamo facendo prima? Ma tutto è intimamente legato all'energia All'energia che noi chiamiamo tale In realtà è Creta È Creta Allora Roll diceva Il colore viola No, il colore verde scusami Sì E la nota Sol La nota Sol rappresentava A quanto lui diceva Come dire La frequenza di aggregazione dell'energia Per cui manipolando quella Hai la possibilità di manipolare l'energia Tutto è energia Qualsiasi cosa È un'aggregazione su frequenze diverse In effetti Che genera la materia Se pensi alla musicoterapia E al modo in cui la musica E quindi le frequenze da essa prodotte Agiscono sul corpo Anche sulla psiche Quindi anche sui corpi sottili Ma comunque si sa che vibriamo Quindi tu dici Ok Senti Alex Io vorrei intervistarti Per ore, ore, settimane, mesi Quanto tempo hai E allora Per concludere questo nostro incontro piacevolissimo Io mi concentrerei adesso sulla trilogia Cioè su Life Sì Hai già spiegato un po' la genesi del tuo primo libro Cioè come è nato È nato dall'esigenza di mettere su carta Comunque sotto dettatura La tua voce interiore Ti ha guidato a scrivere La trilogia proprio Ok E quindi c'è un filo conduttore Che accompagna il lettore Dalle prime pagine del primo Fino al terzo Il primo è uscito Il secondo è in uscita È in uscita in questi giorni Ce lo diciamo adesso Sì esatto Stiamo producendo l'audio movie Perché chiamarlo audio libro è un po' riduttivo Ah io ho ascoltato qualcosa devo dirlo È un bel cast Bellissimo 107 attori E tu aspettati una chiamata Mi ha già ruolato Cioè ma proprio Sai neanche vuoi far parte del cast Tu farei parte Era una domanda più ritorica Che una domanda Bellissima Bellissima Questa cosa mi onora molto tra l'altro Sarà come vedere Ascoltare un film senza vedere le musiche originali E effetti Tutto qua Spettacolo Beh tu mi hai fatto sentire la parte iniziale Il momento diciamo così In cui questo protagonista E poi forse diventerà un film o una serie tv Ma io te lo auguro di cuore Ci stavo già pensando Perché quando ascolti una cosa così Con tutte le voci Ma proprio Ragazzi non è l'audiolibro con le voci piatte Messe alla stessa distanza C'è profondità Ci sono gli effetti Certo Ci sono i passi Ci sono le musiche C'è l'altoparlante C'è la talk show host Sì sì Insomma si sente l'effetto proprio dello studio televisivo Certo Quindi una gallata sovrumana Io ti auguro di cuore che diventi uno film Sarebbe il tuo terzo o quarto Terzo film Terzo film E questa parte di Alex Produttore cinematografico Ne vogliamo solo accennare Beh Scrivendo e scrivo da sempre Perché è stata una passione Che avevo sentito Alla ragazzino Esatto Prima ho cominciato con i classici diari Ero ragazzino In realtà a me è servito molto Perché poi andando a rileggere Man mano che facevo un upload su me stesso Un aggiornamento Vedevo che c'era effettivamente una crescita Un'evoluzione Un'evoluzione del me stesso di quel momento Fino a quello E questo a me è servito molto In questa trilogia tu Metti dentro Infondi te stesso Infondi la tua esperienza come uomo Non solo in questa dimensione Ma anche nella dimensione spirituale Alla quale accennavamo Terreno ed extraterreno Terreno ed extraterreno Ecco Esatto E fantastico Allora a questo punto Vogliamo ricordare i nostri follower Come possono accedere a questo Primo tomo Il titolo l'abbiamo già detto Credo Lo ripetiamo È Life Il primo è Life Sei pronto a scommettere sul tuo futuro Poi C'è questo così Il secondo Esatto Il secondo è Life Sei pronto a conoscere la verità Ok Quindi il primo è un po' una prefazione Per quanto già molto accattivante Nel secondo invece Succedono tantissime cose C'è molto tra i lineari Wow E nel terzo puoi già Accennarci Il terzo è quello risolutivo E si intitolerà Life La società dell'amore Che concluderà in realtà Con un quarto Che è uno spin off Che esiste già Cioè Si chiuderà La trilogia con tre libri Ma io scrissi Già una sceneggiatura Che casualmente Potrebbe essere lo spin off Quindi il quarto capitolo Di questa trilogia Perché è un continuo No? E quindi anche la trilogia Non sarà trilogia Cioè lascia comunque spazio A degli esiloghi No, no Si conclude Ma quando si conclude Ci sarà un diottofino Che ti racconterò fuori Dalle camere Così almeno dopo Io lo saprò Ma questo Cioè il quarto capitolo In realtà Era un film Che io stavo già producendo Negli Stati Uniti Era già tutto pronto Mi era Max d'accordo Tutti pronti Tutto sta pronti Morì il giorno Prima di Natale Il mio produttore esecutivo E il film Fini nel cassetto E quindi dobbiamo tirarlo fuori Questo Questo sogno Dal cassetto Avrà preso un po' di odore Di naftalina Nel frattempo Ma è il tempo Di rispolverarlo E di farlo volare No perché funziona Proprio come spin off Fantastico Fantastico Alex Senti intanto Diciamo dove Come si può trovare Il tuo libro Perché online Quindi su tutti i siti Tipo Amazon IBS Esatto Esattamente Ok Live Esatto Live Alex Polly Alex Polly L'autore E la casa editrice BookSprint BookSprint Ok Alex io ti faccio I miei migliori auguri Thank you Sono Tra felice Di averti finalmente Beccato E portato Qui con me In questo mondo Fantastico Per poter Sfiorare Degli argomenti Che in realtà Tu lo sai meglio di me Andrebbero Sviscerati Sì Ma Non lo possiamo fare In questa sede E in questo format Comunque sia Io credo Che le persone Che seguono Abitualmente Il talk show Hanno individuato Sicuramente in te Non solo la voce Istituzionale O la voce Del lupo solitario DJ Di RTL Ma anche un uomo Che ha una sua profondità E vive Sì non vive per finta Esatto Una vita bella Rotonda Insomma Di una certa profondità La vita è bellissima E vale la pena La pena assolutamente Di essere vissuta Perché è meravigliosa Lo è La bellezza È comunque Lo è Bisogna soltanto cercare di Aprire gli occhi Per vederla E forse 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 Collegare il cuore Alla fonte Già Esattamente Perché così Tutto il resto arriva Ciao Ciao Alex Grazie Noi ci vediamo Alla prossima Grazie Super Sono super 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 Felice Anche io Guarda Sai quanto potremmo parlare Ciao